ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatte a lidl ed acqua e sapone e anche in un negozietto qui del mio paese inizierei proprio con aiuto con acqua e sapone perché si sta per strappare sacchetto e quindi mi sbrigono e farvi vedere cosa ho acquistato allora no questo è della mia amica vabbè la mia amica si è presa uno spazzolino questo qui li serve per pulire il bagno l'ho trovato nel sacchetto quindi lo facciamo vedere quindi questo spazzolino vi dico anche il prezzo dello spazzolino spazzolino è costato 1 ora e 50 lì serve per pulire il bagno poi ho acquistato due confezioni di vernelle che sarebbero queste qua la profumazione mi piace tantissimo credo che siano nuovi non lo so perché io non mi ricordo quello che acquisto si la profumazione è fantastica molto molto fresca sinceramente di tutte e due questo è freschezza glaciale quello con l'azzurro e questa è freschezza floreale e sinceramente anche questa mi piaceva anche se c'è scritto floreale sapete tutti che i fiori non mi piacciono devo dire però che questa mi piace mi piace mi piace allora il vernell vernell sì il vernell concentrato 1 euro e 20 poi un altro acquisto che ho fatto è il dentifricio questo qui della mentadent è mentadent white system carbone attivo per un sorriso naturale più bianco in due settimane quindi voglio vedere se funziona perché ho visto delle recensioni qui su youtube e quindi lo voglio utilizzare questo è dentamento 1 euro e 35 poi un'altra cosa che ho acquistato e questa è per i miei figli perché io non la utilizzo perché non mi ci trovo bene sinceramente io non posso mettere niente sui capelli perché poi mi prude mi porta fastidio e tutto ho preso una lacca una lacca una spuma per quanto riguarda i capelli e questa è una spuma forte intesa styling ditemi cosa ne pensate di questi prodotti perché io non li utilizzo quindi non so se sono buoni o no i miei figli volevano una spuma e quindi gliel'ho presa e questa qui è intesa è costata 1 euro e 49 poi volevano anche una lacca quindi li ho preso questo qui della bilboa è una lacca semi di lino di cristalli liquidi e questa della bilboa è costata 1 euro e 99 quindi ditemi cosa ne pensate sia della spuma che della lacca perché io essendo che non ne capisco volevo un consiglio per i miei figli se vanno bene oppure no poi andiamo avanti e vi faccio vedere le ultime due cose che ho acquistato sempre qui questa è sempre per quanto riguarda i miei figli ed è la saponetta vegetale allo zolfo per pelli miste e grasse impure questa saponetta mi è stata consigliata dall'estetista e quindi l'ho voluta prendere purificante ed è questa qui allo zolfo ed è la linea dei provenzali c'erano anche altre linee però sinceramente volevo prendere questa qui dei provenzali e è costata 1 euro e 29 l'ultima cosa che ho preso da acqua e sapone è l'avio per pulire i pennelli io sinceramente non l'avevo mai trovato perché ogni volta che ci andavo quando avevo chiesto alla commessa la commessa mi aveva detto no no questo non lo portiamo infatti l'abbiamo trovato e l'avio è costato 1 euro e 70 questo si utilizza per i pennelli ovviamente sapete tutti che dovete utilizzare proprio un tic e uscite subito il pennello e quindi poi lo proverò e vi farò sapere se mi ci trovo bene mi ci trovo male e tutto un altro negozio aiuto dove sono stata ho preso delle cosucce che vi faccio subito vedere vediamo se qui si vede questo negozio è di sabato store è un signore che è proprio di palagonia che si chiama sabato di cognome quindi vende questi prodotti e ho preso questo enorme ammorbidente il profumo mi è piaciuto tantissimo e quindi l'ho voluto prendere mamma mia è un profumo veramente molto molto bello e quindi lo ha voluto l'abbiamo voluto prendere è questo qui della softland è costato 1 euro e 99 c'è un boccettono del genere 1 euro e 99 quindi sono così grande mamma mia wow comunque aiuto poi mentre c'eravamo ho preso anche questo che sarebbe il bagnoschiuma che spesso acquisto e devo dire che i miei figli piacciono di più questo che l'altro perché la profumazione è diversa e persiste di più mi stava per cadere il sacchetto persiste di più si è un questo odore gli piace tantissimo a confronto degli altri che li compra quella della vidal questo gli rimane più addosso mi è stato detto da loro quindi perché queste lo utilizzano loro e questo malizia bagno è 1 euro e 59 e quanto è millilitri ottimo adesso vi faccio vedere dei prodotti che li ho acquistati tramite il video di fabiana lizzi vi linkerò il suo canale qui giù nell'info box e vi linkerò mentre ci sono il link per quanto riguarda il gruppo di telegram dove trovate cucina make up che facciamo noi e tante altre cose svago posti molto particolari ho visto il video di Sara bellissimo Sara fantastico cioè lei scova lei e stefano scovano dei posti veramente pazzeschi cioè li dovete seguire perché se a voi piacciono a me sembrava un posto proprio tipo dei film delle scene particolari tipo dei film ed è veramente molto molto bello comunque vi linkerò il canale di questi ragazzi giù nell'info box e tramite il video di fabiana lizzi come vi stavo dicendo lei parlava benissimo di questi prodotti e quindi li ho voluti prendere dice perché non hai preso uno no perché lei ne ha nominato tutti e due quindi li ho voluti prendere tutti e due e sono questi questo è il sunsic ricarica naturale è al cocco aloe vera che è questo qui questo è l'originale e lei dice che questa è l'imitazione proprio identica ed è della dimension quindi voglio queste per capelli danneggiati effetto nutriente li voglio utilizzare per vedere come sono e se posso utilizzare un altro tipo di shampoo oltre a quello della neutro roberts che sono che è diciamo il mio preferito in assoluto vi dico i prezzi di questi allora questo della sunsilk dove sei sunsilk è costato 1 euro e 49 e questo della dimension è costato 99 quindi questo è costato pochissimo 99 centesimi poi l'ultima cosa che vi faccio vedere sono stati acquisti fatti a videl ho preso svariate cose e ve li volevo far vedere allora vabbè ho preso questo ma l'ho preso dai cinesi 1 euro e questo è il sacchettino della borsa cosa ho preso ho preso 1 2 3 più quella che è messa quasi 4 di questi porta spugnette sarebbero questi qua non so se li vedete sono delle dei supporti per le spugnette quindi queste confezioni servono per mettere all'interno la spugnetta questo è quello che troverete si svita e avendo anche dei buchetti adesso vi faccio vedere gli metterò la spugnetta però ovviamente questa l'ho utilizzata quindi abbastanza grande si mette la spugnetta girata e qua dentro può rimanere tranquillamente perché avendo queste fessure questi forellini qua sotto riuscirà a respirare e non a fare la muffa perché spesso capita se noi la utilizziamo e poi la mettiamo in un cassetto nella confezione originale non avendo i buchetti non riesce a respirare questa è della marca mio mare avevano un prezzo se mi sbaglio aspettate qua abbiamo uno spondrino 2 euro e 49 tutto quello che vi faccio vedere è costato 2 euro e 49 quindi ottimo 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 veramente un'altra cosa che vi faccio vedere di questo ne ho prese 3 perché una già ce l'ho là sotto sono queste spugnette abrasive per quanto riguarda per fare l'esfoliazione per il viso allora questa è la dimensione normale ma quando la bagnata diventa esattamente al contrario cioè così grande io inserisco le dita qua dentro e mi aiuto tantissimo a esfoliare il viso ti fa un leggero scrub che è ottimo se mettete le maschere questo vi aiuterà tantissimo a togliere le maschere sul viso oppure a massaggiare se sono delle maschere oppure del sapone particolare vi aiuterà tantissimo a scrubbare il viso sono veramente ottime mi sono pentita di non aver preso di più perché veramente mi piacciono tanto 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 un'altra cosa che ho preso vedete qua c'era la terza un'altra cosa che ho preso è questa ma questa riguarda la mia migliore amica perché la regalo a lei perché io ho quella direttamente della philips ed è la spazzola questa qui per fare la pulizia del viso io ormai la sto intortando con questi prodotti per fargli fare una pulizia del viso buona aspettate che ve la apro tanto lo posso fare e mi piace tanto veramente tanto sinceramente l'ho vista lì era aperta uno quindi l'ho vista e l'ho toccata e mi è piaciuta tanto allora questa è la la spatola diciamo la spazzolina che viene data allora ha il coperchio quindi la potete anche riporre quindi la potete chiudere la potete mettere in qualsiasi posizione volete e ha questi dentini queste spatoline scusate che vi aiuta anche a togliere le maschere sul viso e poi ha questi dentini in silicone che vi può fare anche un bel massaggio sul viso io sinceramente sinceramente l'ho trovata ottima come idea e mi è piaciuta tantissimo e quindi gliel'ho voluta prendere a lei proprio per aiutarla a fare la pulizia del viso quindi le maschere, scrub e tutto devo dire che è ottima ottima veramente l'ho presa solo a lei perché come vi ho ripeto io ho quella elettrica quindi era inutile acquistarla anch'io la stessa spazzola l'ultime cose che vi faccio vedere queste sono state acquistate alla Copp se non mi sbaglio e uno di questi oggetti adesso vi dico allora prima di tutto sono stata alla Copp perché sono stata in un negozio cameo e ho fatto anche un video haul per quanto riguarda Camaiol vi linkerò qui sopra nelle schede dove ho acquistato maglioni maglioni, maglioni, maglioni posso intitolare, posso mettere come titolo Stefania Passioni Maglioni bianchi allora ho preso queste tisane perché purtroppo io non bevo e quindi devo acquistare assolutamente delle tisane quindi ho voluto prendere questo ho voluto prendere questo ed è un infuso con zenzero e arancia allora siccome lo zenzero per me è troppo forte mi sa del piccante e non riesco a berlo e quindi ho voluto prendere questo con l'arancia per vedere se ammortizza il sapore e riesco a berlo invece un'altra cosa che vi faccio vedere questo qui proprio sono andata alla Copp appena ho visto Copp sono andata subito perché questa tisana questa tisana, questo tè bianco l'ho visto sul canale di Elisabetta Elisabetta è un'altra youtuber che fa delle collaborazioni con noi la trovate nel gruppo del make up oppure la trovate qui su youtube con Betty82 ed è, mi ha fatto prendere questo tè ed è un tè bianco con mango e limone lei dice che è ottimo l'ha provato e quindi volevo assolutamente prenderlo perché l'ha consigliato e io mi fido tantissimo di lei e quindi l'ho voluto prendere quindi ringrazio un bacio a Eli e quindi niente l'ho voluto prendere e sono molto contenta perché quando l'ho visto subito ah! l'ha detto Elisabetta la mia amica va qua vabbè non ti preoccupare e niente l'ho voluto prendere perché lei dice che è buonissimo e quindi sempre per aiutarmi a bere l'ho voluto prendere questo è un tè bianco con mango e limone a me piace il mango piace il limone quindi vediamo che accoppiata è niente ragazze allora io chiudo qui il video ho parlato tantissimo spero che i miei acquisti vi siano piaciuti ovviamente scrivetemi un commentino qua sotto per quanto riguarda la spuma e la lacca per quanto riguarda i miei figli ditemi se avete acquistato il tè e com'è ditemi se ci sono altre tisane altre cose da bere che mi possono aiutare a bere perché non bevo che dirvi di più ragazze io vi mando un grossissimo bacio ma grande 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 come la grande voglia che ho di fare video su youtube in questo periodo quindi mi sto dando forza e energia sono molto contenta di come sta andando il canale vedo molto più visualizzazioni quindi sto vedendo molte 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 persone che guardano i miei video e sono molto contenta io vi ringrazio tantissimo aspetto i vostri commenti come vi dico sempre bello brutti basta essere educati io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao